Il Papa Giovanni Sono perlomeno 74 anni che ho conosciuto Papa Giovanni. Io ero un ragazzo di prima liceo e mi piaceva molto seguire ogni avvenimento della Chiesa. In Italia, quando ero giovane, si pubblicava ogni anno un volume che era intitolato Annuario della Chiesa Cattolica in Italia. C'era naturalmente prima di tutto il Papa, la sua curia romana, le varie istituzioni, il nome di tutte le diocesi italiane. Anche allora, nonostante che andiamo indietro di tanti anni, si usava a mettere anche delle piccole fotografie. Nel 1932, Papa Giovanni era già da sei anni in Bulgaria, rappresentante del Papa, ma si chiamava col titolo di visitatore apostolico. Era già vescovo, ma visitatore apostolico. Dopo sei anni la Santa Sede ha istituito il titolo di delegato apostolico. Sapete che nella cosiddetta diplomazia vaticana ci sono due categorie di rappresentanti, o c'erano adesso un po' meno, ma due categorie. Uno, i delegati apostolici, e quelli avevano i rapporti con l'episcopato, ma non con i governi. Il nuncio apostolico invece aveva rapporti anche con i governi, come attualmente. Il monsignore Angelo Giuseppe Roncalli, fino al 1932 visitatore apostolico, del 1933 si chiama delegato apostolico. L'annuario del 1933, con la data del 1932, porta tutte le notizie che riguardano il 1932. C'è scritto che il Santo Padre ha istituito la delegazione apostolica in Bulgaria, affidandola all'attuale visitatore, arcivescovo Angelo Giuseppe Roncalli. Io leggevo per curiosità queste cose, vedo questa notizia con questo piccolo ritrattino, un ritratto, un tondo, un tondo, che si dice, mi colpisce molto col volto, mi colpiscono gli occhi, il sorriso sulle labbra, una bella faccia tonda, un aspetto bello, mi è piaciuto, è bello, è bello, e mi si è impresso dentro qui. Da allora, quella piccola immagine, mi ha accompagnato fino ad oggi. Non sapevo che cosa la provvidenza, se capisce, avrebbe operato, però sempre ero curioso quando, dopo due anni dopo, dalla Bulgaria, passò in Turchia e Grecia. Voi sapete, da Turchia e Grecia, lui passò a Parigi, dopo da Parigi venne il patriarca della mia diocesi, che è il patriarcato di Venezia. L'avevo incontrato una sola volta di persona, l'avevo incontrato nel 1950, lui era venuto a Venezia per una celebrazione dei mechitaristi armeni, un ordine orientale, che celebravano i 200 anni dalla morte del loro fondatore. Io facevo il piccolo giornalista diocesano, e andai a portargli i saluti del mio vescovo, il patriarca di Venezia, e anche a domandargli alcune cose. Appena lo vidi, disse subito, questo è proprio quello che ho visto nel ritrattino, quando avevo 16 anni, 17, 18, ero giovane. E parlando, a un certo momento, visto che lui era così amabile, mi è venuto a dirgli, eccellenza, io ho incontrato lei nel 1932. Lui fa, a me? Ma dove? Allora gli ho detto, nel libro, l'annuario cattolico del 1933. Allora lui ha sorriso, abbiamo parlato di varie cose. Quando lui ha lasciato Venezia per tornare a Parigi, io feci un articolo, un incontro con il nuncio apostolico a Parigi. Poi ho detto, glielo mando? No, direttamente a lui no. Ho scritto alla segreteria, all'eccellentissima segreteria del nuncio a Parigi. Dico, per conoscenza, se loro credono di farlo vedere al nuncio, io mando questo. E pochi giorni dopo, mi ha risposto, non lì il segretario, ma lui di persona, chiamandomi addirittura per nome, caro Don Loris. E' stata una sorpresa per me. Non avevo mai avvicinato un nuncio, un personaggio. Chi vive alla periferia, vede tutte le cose come ingrandite. Poi è capitato che due anni dopo, è morto il patriarca di Venezia e Pio XII a questa città ha mandato lui. Ha fatto l'ingresso a Venezia il 15 marzo 1953 ed eravamo alla quarta domenica di quaresima che si chiama Gaudere. Godete! Veramente Venezia ha goduto subito della paternità e della sapienza di quest'uomo buono. Sì, buono, ma dotto anche, prudente, sperimentato, capace di navigare in tempi che sono difficili, sempre nella storia, ma noi siamo vissuti anche in tempi difficili, di divisioni, di difficoltà. Lui ha portato, direi, la bonaccia. Venezia è una città di mare, nelle acque tempestose, delle contrarietà, anche tra di noi, ha portato la bonaccia evangelica, cioè la bontà, l'amore. La bontà è una città di mare,